questa è la mia faccia quando sento dire che il karate kyoku shinkai è lo stile più duro al mondo quando sento dire che il jiu jitsu brasiliano e l'arte marziale più efficace al mondo quando sento tutte queste sciocchezze e questa cosa perdura da per me dal 1987 è una trappola mentale quella di considerare una scuola superiore a un'altra o uno stile superiore a un altro una trappola mentale che può accadere per ignoranza fondamentalmente io ho praticato judo per molti anni con degli ottimi maestri in una scuola particolarmente rinomata nella mia città e ottenendo dei buoni risultati che mi hanno portato fino all'azione italiana di judo e quando mi confrontavo con persone che facevano arti marziali tenigravano il judo solitamente finiva sempre che queste persone venivano strapazzate a destra e sinistra per la materassina questo incominciato quando ero cintura blu di judo ho iniziato a frequentare anche altre palestre che c'erano nella mia città e non bisogna considerare uno stile superiore un altro come tutti pensano dipende molto l'efficacia di una scuola dipende molto scusate dalle capacità dell'individuo da quanto questa persona si alleni dalle modalità di confronto della palestra credo che al giorno d'oggi sia anche sbagliato avere come metodo di riferimento l'efficacia di una scuola in combattimento le arti marziali miste proprio perché sono arti marziali miste e quindi non è più come all'inizio della storia delle mmei o mma quando era uno stile contro l'altro stile al giorno d'oggi un praticante di giudizio brasiliano ha degli ottimi fondamenti di striking così come un sambista va a studiare lo stesso giudizio brasiliano o kickbosser va a studiare la lotta libera in più le mma sono un banco di prova più per l'individuo che per lo stile perché richiedono un grande investimento di tempo per prepararsi molto bene allora quale potrebbe essere un metodo di valutazione per vedere su una scuola superiore un'altra è praticamente impossibile bisognerebbe tornare indietro nel tempo fare il dojo ioburi o dojo rashi girare per le varie palestre confrontarsi sfidando i più forti di ogni palestra però anche questo è un metodo che funziona solo quando si è giovani allora l'efficacia potrebbe essere qualcosa di diverso così come intendeva il signor gigoro cano fondatore del judo se dico signore perché durante un seminario con il maestro cesare barioli molti anni fa il maestro cesare barioli grande judoca disse che quando ci si riferiva a sensei cano fondatore del judo e bisognava usare in italiano il termine signore perché qualunque altro termine sarebbe stato riduttivo quindi il signor cano quando parla di massima efficacia intende forse la capacità di utilizzare la tecnica corretta nel momento corretto non col minimo di spendo di energie ma con la quantità di energia corretta in questo senso forse un'arte marziale efficace è un'arte marziale che permette di crescere continuamente negli anni e di non rimanere fermo ho sentito dei maestri che dicevano che a una certa età il maestro deve ritirarsi dal combattimento deve prendere le botte perché deve essere ad esempio gli altri o questa cosa non credo non ho mai incominciato a fare arti marziali perché a una certa età dovevo prendere le botte 51 anni mi piace ancora adesso cercare di confrontarmi con le persone e vedendo l'esempio dei miei maestri di alcuni istruttori che ho frequentato che hanno più di 70 anni certo con le dovute al cautela mi piacerebbe poter continuare a farlo anche negli anni con l'obiettivo di migliorarmi non di vedere se sono più forte o meno quindi l'efficacia probabilmente questo una buona tecnica una versatilità tecnica e come ho detto prima anche una certa longevità della tecnica che porta a una longevità della persona è un miglior stato di salute questo è tutto e se siete convinti che la vostra arte marziale migliora da mia che vi devo dire ci avete ragione